se lo trova magari ce lo fanno come consigliere dove sei? e sono tutti che rivolgono la ferrovia per la ferrovia e per il riprenditore per i telefonini sarebbe anche ora che bella la fumo nera che fa anche dalle cascine siamo in mezzo alle colline guarda che bella casa in mezzo alla collina guarda che bella cascina in mezzo alla collina io ve l'avevo detto che questo era il tratto più bello della linea si è vero buongiorno buongiorno grazie grazie io questa tratta l'avevo ancora fatta quando c'era il minuetto buongiorno grazie è vero hanno finito di raccogliere da poco mamma mia è vero tabaccaio vero? me le tengo in borsa perché non ci sono le ah qui anche questo va dietro per il mercato qui c'è anche il tabacchio sì 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 buongiorno 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 i soldi di fondazione fs da mettere in casa li fanno anche li fanno ah ok perché non li ho ancora trovati ho trovato le tazzine ho trovato le tazzine portachiavi ho trovato le chiavette usb ok va bene forse va bene d'accordo grazie ovviamente qua ci dicono un convegno via le due mezza sì esatto con il promotorico motore più forte esatto sì gli hanno fatto anche la pubblicità su facebook ma c'è un po' dentro? penso di sì che sia sul treno lo vedi a Canelli piuttosto tanto l'abbiamo inizia l'amore con Ciri io a fare un accordo con il presidente della regione è un veicolo è un veicolo ma perché devi venire così? cosa ti abbassa qui?